Salve a tutti ragazzi eccoci oggi con un nuovo video ragazzi anche oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links e ragazzi mi scuso perché ieri non ho caricato video ma ho avuto un po' di tempo e infatti c'è una sorpresa come potete ben vedere ho cambiato lo sfondo per quanto riguarda il gioco appunto Yu-Gi-Oh! e diciamo che mi posso valutare e dire che mi è uscito abbastanza bene considerato che non sono un designer eccetera eccetera comunque sono riuscito a fare qualcosa di decente e di guardabile ieri perché comunque non sono riuscito a fare video oltre perché ho fatto questa cosa qui perché ho caricato un video per fare una nuova serie con voi ma ho praticamente sbagliato credo a impostare le impostazioni per registrare e si sentiva solo l'audio quindi un altro bellissimo fake e quindi oggi se ho un po' di tempo oltre a questo video cercherò di registrare anche quel video che vi volevo fare ieri allora oggi che video vi porto perché nelle rank ancora non ho giocato e sono ancora silver che video vi porto? come potete ben vedere sono alla fase 58 le fasi sono diventate 60 e esistono ora 60 fasi per la fase 57 mi diceva sconfiggi 3 volte My Valentine in Duel World a livello 40 ragazzi io non mi ero reso conto di quanto era forte My Valentine e perché cazzo non riuscivo a batterla 3 volte di seguito la battevo anche 2 volte ma poi la terza volta perdevo nonostante giocassi insomma deck abbastanza forti perché? perché ha quella carta terreno che comunque le fa evocare sempre mostri la carta continua che se i suoi mostri sono più deboli prendono più mille punti insomma era un gran casino e quindi suppongo che molti di voi avranno i miei stessi problemi a tutto questo c'è stata una soluzione la soluzione è un deck fatto apposta contro My Valentine che lo ammetto l'ho visto su youtube anch'io solo che l'ho modificato a modo mio allora andiamo a capire del perché questo deck è utile cioè è buono contro My Valentine perché noi usiamo Cerbero che insomma diventa un... si pompa a bestia non può essere distrutto quindi dalle carte che ha My Valentine e quindi vinciamo andando diretto con... grazie a questa carta che inleva mille punti al nostro mostro ma poi il nostro mostro comunque può attaccare direttamente e fare un'enormità di danni e vincere il duello le carte devono essere appunto tutte magia per aumentare i segnalini del nostro Cerbero le carte che vi consiglio da mettere sono quelle là che recuperate le F points in modo tale da poter sopravvivere più tempo infatti questa qua che viene da 600, questa che viene da 400 e io ho aggiunto questa qui perché ce ne da mille a entrambi i giocatori e sinceramente non è proprio il massimo probabilmente era meglio mettere una che ci da più 400 piuttosto che questa perché da anche mille al nostro avversario poi ragazzi una cosa essenziale è mettere il 3x di eliminazione del guerriero che distrugge tutti i mostri tipo guerriero sul terreno ed è ottimo perché il nostro avversario usa solo mostri tipo guerriero poi proprio perché ha le carte trappole magia che ci rompono e ci fanno un culo tanto dobbiamo giocare annulla carta magia cioè le carte magia scusate annulla carta magia e turbine che poi turbine lo potete giocare anche in 2x io però visto che non ho il secondo ho messo pendente nero che è buono comunque poi scheggia della vita per velocizzare il tutto e ce ne vuole il 2x ma visto che io anche questa non ho il 2x ho aggiunto jarra della cupidigia giusto per pescare un po' in più poi come ultima carta che io ho voluto aggiungere ho aggiunto questa qui nutriente zero che quando subiamo 2000 danni possiamo insomma ne guadagniamo 4000 come punti e quindi i nostri life points non dovrebbero cioè non dovremmo perdere almeno per quel turno quindi se ci esce di prima mano è molto molto buona ma comunque il deck visto così vabbè scusate l'ultima carta è il ririoku che ci serve per potenziare ulteriormente il nostro cerbero comunque il deck visto così sembra un po' fake sembra che non vada bene eccetera eccetera ma adesso andiamo direttamente in dual world nel cancello e andiamo a sconfiggere my vanitan insieme iniziamo noi e diciamo che è una cosa da un lato positiva da un lato no ok ragazzi non mi dite niente ma c'è uscito direttamente cerbero come prima mano e noi ce lo giochiamo comunque e andiamo quindi ad attivare tutte le carte magia che possiamo per farlo salire il quanto più possibile oddio da un lato è una cosa positiva da un altro lato non è una cosa positiva perché adesso il nostro cerbero è un 2004 se lei gioca esatto proprio questa carta qui dipende che mostro gioca perché i suoi mostri prendono più mille punti e quindi diventa un po' un casino giochiamo pendente nero e andiamoci a equipaggiare il nostro cerbero non dovete assolutamente attaccare ma dovete continuare a fare pompare il vostro cerbero il più possibile anche perché io avendo giocato quelle carte magia ho fatto pompare la nostra avversaria di life points e quindi adesso dobbiamo far aumentare ancora di più il nostro cerbero ragazzi è vero che adesso il mio cerbero è uscito alla prima mano e sinceramente non mi va di andare avanti con la partita cioè di levare la partita per poi farne un'altra per farvi vedere quando si attiva l'abilità comunque quando state all'inizio lui attacca cioè lui ci attiva un mostro di milleotto ci attacca diretto e noi attiviamo semplicemente la nostra abilità pescando il cerbero e quindi ci ritroviamo come siamo adesso però avendo fatto altre cose prima allora il nostro avversario con questo mostro non subisce danni quindi potrebbe essere un problema se ci attaccava ci faceva tornare il nostro cerbero praticamente a zero e per questo dobbiamo subito giocare la nostra carta magia pompiamo ancora il nostro cerbero e continuiamo così fino a che non superiamo i 5 diciamo che il nostro cerbero adesso per vincere deve arrivare ai 6.000 punti di attacco in modo tale da poter andare diretto con 5.000 punti ci recuperiamo un altro po' di life points sempre facendo pompare il nostro cerbero che arriva praticamente a 4.900 che meno 1.000 diventerebbe un 3.900 però poi se gli do 500 qui e 500 qui sarebbe altri 1.000 rimane precisamente a 4.900 e quindi no ho bisogno di un'altra carta magia per poter distruggere il nostro avversario quindi se la prossima carta che peschiamo è una carta magia abbiamo praticamente vinto e non ci abbiamo messo neanche molto si è una carta magia ma come al solito non la possiamo giocare ed è per questo che io dicevo che pioggia misericordiosa non era proprio il massimo perché vedete dare quei 1.000 punti al nostro avversario ci impedisce invece già questa qua ci può far vincere perché da life points solo a noi pompiamo il nostro cerbero si attiviamo anche il turbine in modo tale che sei contento buttiamo giù la sua carta e insomma ragazzi così facendo il nostro cerbero dovrebbe arrivare ai punti necessari infatti 5.900 più 500 e poi meno 1.000 ce la facciamo in pieno e buttiamo giù il nostro avversario equipaggiandolo con questa carta cerbero può attaccare diretto infatti vedete 5.400 attacco diretto e abbiamo praticamente vinto il game ragazzi vi assicuro che questa cosa è sempre fissa è così è un deck fatto apposta sicuramente lo potete modificare aggiustare e fare un po' come vi pare a voi perché è un deck molto personale nel senso l'importante è giocare cerbero giocare le varie cose e pomparlo fino a che non andate diretti quindi la tattica è molto semplice vi fa prendere anche abbastanza punti per poter prendere le ricompense di MyValentine che non sono assolutamente male e quindi ragazzi io davvero come al solito spero che questo video vi sia stato utile vi abbia intrattenuto e io vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo bella raga grazie a tutti